GAMEPLAY DI PESS Vi dico Che per non retrocedere Perché ormai per la promozione Ragazzi non c'è più possibilità Per questa run Quindi per non retrocedere Devo fare Una vittoria e un pareggio Quindi Cerchiamo di giocare Scusate Mi sono dimenticato di rimettere Ronaldo Adesso Ronaldo lo potevo Rinserire Aiaiai ragazzi Mi son giocato tutto Mi son giocato tutto Vabbè Non posso usare Ronaldo Avrei potuto usarlo E che mi son dimenticato Di rimetterlo in rosa Ma va bene Ragazzi Qui ve lo dico Qui si arriva in divisione 7 State a vedere No L'ho fatta grossa Vabbè Speriamo Dai speriamo bene Speriamo bene E non ho messo neanche Il numero nuovo a Suarez Mi son dimenticato Vabbè Lasciamo stare Lasciamo stare Lasciamo stare E se si arriva in divisione 7 Ragazzi Sicuramente ancora I gameplay Spero Spero di si Spero di si Vediamo 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 Ma come si fa Il mio pupillo Ronald Enji Vabbè Però Neymar Dai ragazzi Ah fuori gioco Niente da fare Il giocatore al di là Della linea difensiva Fuori gioco Vorrei accendere il ventilatore Ragazzi Ma poi fa casino No Ho sbagliato Sbagliato Che Ma cos'è Ma che rinvio è questo Sicuro Qui l'intervento Del portiere Eh sicuro sì Ma adesso Devo fare un pareggio Una vittoria Per non retrocedere L'azione poteva diventare Davvero pericolosa La promozione In divisione 5 Purtroppo Per i punti che ho Ragazzi Non posso farcela Perché Anche con due eventuali vittorie Non arrivo a punti Quindi Vai Messi Vai Messi Vai Messi Lì Neymar Neymar No Passa la palla Neymar Eh vabbè Ragazzi Questo è di divisione 2 È di divisione 2 Questo Non è che Tiago Silva Non è uno scherzo Non è uno scherzo Iniesta Passa la palla Suarez Oh 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 Vabbè Prova a saltare Il centro campo Grande Alaba Grande recupero Vabbè Non è servito a molto Alaba Iniesta Qui recupera Sergio Ramos Ragazzi Hanno ottenuto un fallo laterale Grande Ramos Che recupera lui Vabbè Ogni tanto riesce a recuperare Qualche pallone Ramos Uh uh Calle on Vai Uh per poco ragazzi Per poco Veramente per poco Veramente per poco Millimetrico Millimetrico Però Suarez Non scatti Hai Devo passarti la palla Io Provo il filtrante Cerca lo spunto Cerca il tiro Ai 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 Vabbè Allontana il pallone Di prepotenza Non è stata una parata perfetta Suarez Se l'è mangiato il gol Se l'è Mangiato Palla in out Ci sarà rimessa laterale Vabbè Meglio che si mangia i gol Ragazzi Che si mangia le orecchie Scherzo Scherzo Vabbè Comunque Andiamo No No Cosa succede? Cioè Io non capisco ragazzi Perché i difensori Vabbè Lasciamo stare Niente gol Né da una parte Né dall'altra Vai Neymar Mettila a giro Bella 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 Neymar Bella Veramente Veramente Bella Ragazzi Vi dico la verità Non mi aspettavo Che avrei segnato Lì Si riparte Si riparte dall'1-0 Ora hanno in mano la partita Ma non possono permettersi cali di concentrazione Ma non ho in mano niente Ho fatto un gol Un gol nel calcio Non è nulla Bella così Bella Bella palla Ma Suarez Non arriva ragazzi Non arriva Suarez Suarezito Non arriva Riceve un pallone interessante Bella difesa A volte si fa Palla a piede No aspettavo Vabbè ragazzi Allora Spiegatemelo voi Spiegatemelo voi Ragazzi La difesa Di cosa fa Ah lui ha anche Ronaldo Io mi sono dimenticato Di metterlo in campo Vabbè Che sarebbe stata una gara combattuta Eccone la prova Prova a passare la difesa Scavalcandola col pallone profondo Ok 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 Così Eh vabbè Goll a culo Ma vabbè E' gollo Bell colpo di testa Ha sfruttato bene Il pallone del compagno Ottimo questo colpo di testa Preciso ed efficace La traiettoria Che ha dato il pallone Era perfetta Il portiere Non ha potuto fare niente Eh vai però dai Anche se solo Con un gol di scarto Mi sta andando bene Ragazzi Che mi sono dimenticato Di rimettere Ronaldo Occasione Ci mette la testa Eh vabbè Andate Andate Non è che mi voglio arrendere Ragazzi Ma è andata E di divisione 2 Ci può stare Vuol dire che si arriva In divisione 7 Ragazzi Eh se continua così Si arriva in divisione 7 E poi anche di più Vabbè Ditemi voi ragazzi Vi siete stufati In che interrompo I gameplay di pass Perché a questo punto Tanto non riesco a giocare Ragazzi Non riesco a giocare Se parlo quindi Se devo incazzarmi In questo modo C'è due gol uguali Con Ronaldo Vabbè Stare anche di divisione 2 Ragazzo Ma Un po' di inventiva In più Un po' di inventiva In più Sì magari dagli anche il rigore Adesso Non ho fatti fallo io Credo ragazzi Che se perdo questa partita Arrivato in automatico In divisione 7 Perché Vabbè Comunque Se avevo Ronaldo in campo Credo che stiamo parlando Di un'altra partita Mi sono dimenticato Di ripiazzarlo Ma vabbè Cerca di superare la difesa Con questo pallone lungo Può cacciare a rete E vai così Vai così Dai Dai Ci voglio credere Ci voglio credere Ci voglio Veramente Credere Si Ragazzi Attenzione Iniesta Un solo gol E a farlo Quell'altro gol Dai Recuperiamo sti palloni Dai che lo stiamo mettendo un po' in difficoltà Cerca spazio Pallone intercettato Ha il fiato sul collo Non bisogna dare respiro Adesso Eh vabbè Però Se interrompiamo Il bel gioco In questo modo Poi Cerca il passaggio In profondità Riceve il passaggio No Eh non volevo fare il fallo ragazzi Ma è stato un input Che Meno male Mi è andata di lusso Va bene Ho subito tanti ragazzi Lo faccio anch'io Ho subito tanti falli In queste partite Per una volta Che lo faccio io E infatti ragazzi Mi è andata bene Perché non sono stato penalizzato Con il cartellino rosso A parte Appunto perché Scusate L'arbitro sa che Non li faccio mai falli Ecco E quindi Mi ha tirato fuori Il cartellino giallo Siamo ancora Sul 3 a 2 Vabbè Eh dovrò fare Forse un cambio Non so Vediamo Vediamo un po' Come sono i giocatori In campo Se sono stanchi Oppure no Se sono stancho Vici oppure no Neuer Allontana il pallone Una piccola battuta Molto brada Eh ragazzi Credo che Sì vabbè Sono arrivati i giocatori Guardate qui Bale Vai Ribery Ibra Vai Si cambia il tridente Ragazzi Ed ecco L'ultima sostituzione A disposizione Del mister Anche se io con Ibra Non è che sono molto forte Ve lo dico Pirlo È forte come giocatore Ragazzi Però Si rivinco Va usato In un certo Modo Passaggio sulla destra Pirlo Luca Che ne dici Possiamo considerare Chiusa la partita ormai Eccolo qui ragazzi Ibra Anche soprannominato Cazzo guardi Come dice lui No Ai 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 E ragazzi Ha fatto una bella azione Ha fatto una bella azione Le belle azioni Bisogna metterle Uh Ibra Che toglie palla Ragazzi Vabbè Toglie palla Ma non ha fatto altro Io ormai rischio Ragazzi Che devo fare Buona deviazione Del portiere È un assedio Ora È un assedio Il finale È un assedio Devo cercare Di dare palla Bale Devono cercare Di portarsi avanti A tentare La galoppata E via Per cercare Per cercare Di segnare Intanto Il tempo Passa Intercetta Opportunamente Visto che l'azione Era pericolosa Aia fallo Ragazzi Fallo Vabbè Beh non fischia Neanche il fallo Lì Finita ragazzi Diablo Riva in divisione 7 Si riva in divisione 7 Ragazzi Ditevi voi Se devo continuare O no Rischio che determina La fine della gara Erano in vantaggio Si sono lasciati raggiungere Eh magari Con Ronaldo in campo Era un'altra partita Ma è andata così E' andata così Vabbè Era uno di 835 di rating Ho fatto già Più del dovuto Non è che era uno da Quindi Ah su Arezzo E Vidal Vabbè Soldi che se ne vanno Non riprendo soldi Quindi ok Eh ma a questo punto Non credo che Vabbè Non posso scendere in campo Giustamente Perché non ho giocatori Rinnovo il contratto Eh ragazzi E' brutta Qui la storia Si è messa male La situation Ma ormai E' così Sono un po' desolato Ma Poi sul canale C'è qualcuno Che dice che non so giocare Io dico Sarei forte tu Eh mi dispiace ragazzi Ma poi devo dire anche queste cose Io Non sono un tipo Che sta zitto Su queste cose Quindi Non faccio nomi Ma va bene così Allora Allora Tolgo Ibra Rimettiamo Ronaldo Qui Se si è ripreso Dall'infortunio Ok Ok Perché mi da 95 Di spirito Vabbè Forse Ok ragazzi Allora Anche questo gameplay È concluso Ho perso 3 a 2 Ma con un avversario Di tutto rispetto Di divisione 2 Solo che Alla prossima partita Si riandrà In divisione 7 Ragazzi O vinco Perdo Quello che sia Quindi E' così E' così Un saluto a tutti Al vostro Diablo Dex Ciao ragazzi